Buongiorno Dedo, l'attuale CEO e founder di Dell, che si chiama Michael Dell, ha parlato in una fireside chat di intelligenza artificiale. Le fireside chat sono cose molto americane, sono letteralmente le chiacchiere di fianco al fuoco, cioè quelle chiacchiere che vengono fatte in ambienti informali e in tono informale, insomma per far vedere le aziende un po' più vicine ai propri clienti o i politici o i personaggi famosi, insomma per farsi un po' delle chiacchiere amichevoli. Va bene, questo è il formato, insomma, fireside chat, e parlando in una chiacchiera di questo tipo, Michael Dell ha detto che non ci dobbiamo preoccupare del pericolo dell'AGI, cioè dell'intelligenza artificiale generale che potrebbe diventare un pericolo per l'umanità, perché gli esseri umani, ha riportato questo esempio, sono in grado di riconoscere grossi pericoli prima che diventino catastrofi e intervenire per sistemarli, come abbiamo fatto, dice, con il buco dell'ozono che abbiamo sistemato. Ma se non fosse che non è vero, il buco dell'ozono ci metteremo altri 40 anni per sistemarlo, se guardate i dati sopra l'antartide lo strato di ozono è ridotto del tipo del 70%, non mi sembra proprio l'esempio migliore da portare, abbiamo sistemato il buco dell'ozono, tra l'altro ci sono migliaia di altri esempi di catastrofi che abbiamo riconosciuto, abbiamo saputo che ci stavamo infilando proprio nel percorso che ci aveva portato alla distruzione e stiamo continuando ad andarci addirittura pestando sull'acceleratore, guardiamo tutto il casino che sta venendo fuori in questi giorni per microplastiche ovunque, ma il riscaldamento globale, l'inquinamento, non mi sembra che l'umanità, secondo gli esempi che fa Michael Dell, sia in grado di riconoscere le catastrofi e intervenire prima per prevenirle, no? Quindi se questo è la tranquillità che ha il signor Dell per metterci al riparo dai possibili disastri creati dall'intelligenza artificiale generale, insomma, spero che ci troverà degli esempi migliori. Se volete sapere la mia, secondo me siamo molto lontani da una catastrofe di intelligenza artificiale generale che vuole conquistare il mondo, ma per un motivo tecnologico, nonostante quello che appunto cercano di vendere, insomma, Dell che deve vendere servizi per l'IA, ma anche altre aziende, insomma, gli attuali progressi nell'intelligenza generale non sono così avanzati da farci preoccupare di macchine che prendono il controllo del mondo. Quindi la tranquillità sta più che altro lì, non nel fatto che gli esseri umani siano in grado di prendere delle contromisure. Vabbè, questa era la frizzantezza della FaiCaiChat di Michael Dell, ora vi do invece qualche notizia frizzante anche oggi. È venerdì 12 gennaio e tra le fonti che seguo io, ieri il grande tema è stato quello dei tagli, ma in realtà le notizie che riguardano i tagli sono due ben diverse. Una riguarda tagli al personale, purtroppo, dobbiamo ritornare su layoff, e l'altra invece riguarda i tagli alle tariffe di egress che hanno riguardato e riguarderanno Google. E partiamo proprio da quest'ultima. Google ha annunciato che taglierà le tariffe di egress. Che cos'è la egress? È il contrario dell'ingress, cioè sono quelle operazioni che fanno uscire i dati da un cloud, no? Mentre le ingress sono operazioni di dati in ingresso verso un data storage. Ecco, quindi si paga ogni volta che si va a scaricare o a muovere quantità di dati, ecco, per esempio da un cloud all'altro. Quindi tutte le operazioni di migrazione di dati da un cloud all'altro sono soggette a delle fee per i dati in uscita da un cloud. L'annuncio di ieri di Google è che ci sarà un taglio totale di queste fee, però non è proprio totale, globale per tutti i casi, ma bisogna stare attenti a che cosa dice l'annuncio. E per seguirlo bene vado su un articolo di The Register che ne parla. Allora, l'annuncio, intanto vi faccio vedere a chi sta guardando l'annuncio di Google, è questo, proprio di ieri, di Amit Zaveri, che è la head of platform di Google Cloud, e si intitola proprio il cloud switching, quindi cambiare cloud diventa più facile. Infatti noi rimuoviamo le fee sui trasferimenti di dati fuori, verso fuori Google Cloud, ecco. E poi c'è tutto, insomma, l'annuncio. Ve lo commento con The Register, quindi parte l'articolo dicendo che appunto muovere i dati ha un costo, ed è un costo anche piuttosto importante. E adesso invece Google, insomma, vuole andare contro questa tradizione, ecco, per, a quanto pare, rimuovere uno dei blocchi alla possibilità per i clienti di scegliere il cloud che più gli piace, di essere liberi di muoversi. Però dicevo, attenzione, perché non c'è un azzeramento totale dei costi di egress, perché a parte alcuni casi speciali, il programma è soltanto per quelli che vogliono uscire da Google Cloud Platform per sempre, e quindi all'uscita deve poi seguire una disattivazione dell'account. E questa operazione di uscita e disattivazione deve essere poi seguita da un account manager, da qualcuno dei team di supporto di Google che segue la pratica con il cliente. Quindi chi vuole portare fuori tutti i propri dati da DCP deve contattare il suo, insomma, account manager in Google e poi deve compilare un form di free data transfer. A questo punto il supporto di Google va a fare review di questo caso e determina se siete qualificati per farlo. A questo punto ci sono 60 giorni per spostare totalmente i dati fuori e quando la migrazione sarà completa il cliente deve chiudere e terminare l'account. Se tutto va come deve andare, nella fattura finale, ecco nella nota finale, ci sarà un credito, una nota di credito che andrà a stornare i soldi della fee dell'egress. E attenzione perché i tagli si applicano soltanto ad alcuni servizi come BigQuery, Cloud BitTable, Cloud SQL ed altri. Quindi bisogna vedere anche qual è l'elenco dei servizi che fanno parte di questa iniziativa. Ma va poi a dire l'articolo di The Register. Perché Google sta facendo questa mossa? Ora, secondo l'opinione di Google e quindi dell'head of platform Amit Zevery, le egress fee non sono una grande barriera che impedisce ai clienti di spostare dati da una piattaforma all'altra. Le barriere sono altre e le barriere sono da ricercare nei wall gardens e nel fatto che alcuni cloud provider che non vengono citati direttamente usano delle pratiche scorrette, diciamo, per impedire ai clienti di scegliere il cloud che preferiscono. Quindi in un panorama in cui la scelta del cloud è spesso forzata dal fatto che ci sono delle pratiche scorrette che costringono dei clienti a scegliere determinati fornitori, il dover pagare una fee per la migrazione è un costo tutto sommato che è poco incisivo. Ecco, a chi si sta riferendo Google? Secondo The Register è abbastanza evidente che si riferisce a Microsoft. Infatti Google è un po' di tempo che punta il suo dito verso Microsoft, soprattutto perché Microsoft sta creando un monopolio, insomma attorno a Office, Office 365 infatti non è possibile installarlo su altri cloud provider fuori da Azure e questo costringe molto i clienti ad adottare proprio i servizi di Microsoft se hanno bisogno di Office. Già in passato si era parlato di lamentele di Google e di altre compagnie verso Microsoft per le tasse di licenza applicate a Azure e altre restrizioni che non hanno, secondo i competitor, delle basi tecniche ma sono solamente dei modi per tenersi i clienti in questo Wallet Garden, questo secondo appunto Google ma anche altri. Quindi la versione di Google insomma è che queste fee non sono tutto sommato un grande problema però bisogna eliminarle per consentire libera circolazione di clienti, insomma di persone nel cloud e per permettere ad ognuno di scegliersi il cloud che preferisce. Ma come dice poi, come prosegue poi l'articolo, se indaghiamo meglio attorno a questa scelta, a questa comunicazione, probabilmente troviamo degli argomenti anche più convincenti che se la sostengono. Per esempio l'investigazione di varie antitrust. Infatti Google è sotto lo scrutinio di antitrust sia negli Stati Uniti, perché c'è la FTC che sta indagando, sia in UK, la Competition Markets Authority, e anche in Unione Europea. Tutti stanno guardando all'interno delle pratiche di business del cloud. Peraltro stanno guardando intorno a queste pratiche proprio su indicazione di Google, tra gli altri. Ma Google è quella che spinge di più, no? Soprattutto per andare a vedere che non ci siano pratiche anticompetitive e le egress fee sono proprio tra quei punti che le autorità stanno vagliando per stabilire che se siano o meno una pratica anticompetitiva. Allora uno potrebbe sospettare che togliere queste fee dai propri contratti metta Google già in una luce migliore verso le autorità antitrust, essendo anche quella che ha puntato il ditino per prima. E cercando ulteriore supporto a questi commenti, ho trovato l'immancabile commento di David Anemai Ransom di HH, che ha fatto tutta una narrazione nell'ultimo anno sull'uscita proprio del cloud, no? E infatti trovate puntuale l'articolo sul suo blog che parla appunto di queste egress fee. Vi leggo solo l'incipit e qualche dettaglio. Lui dice L'assurda egress fee che è emessa dagli hyperscaler è stato uno dei più grandi impedimenti alle compagnie per lasciare il cloud. Quindi al contrario di quello che sostiene Google, per esempio dice Noi ci siamo preparati per la nostra uscita da S3 di AWS, ma il prezzo per togliere i nostri dati e portarli altrove sta tra 300.000 e 400.000 dollari, cosa che viene definita Crazy Land. Quindi immaginate la mia sorpresa quando ho visto l'annuncio di Google Cloud che appunto sta togliendo le fee. Ora ipotizza due motivazioni in questa uscita. La prima è quella che vi dicevamo prima, quindi le investigazioni dell'antitrust in Unione Europea, Stati Uniti e UK. La seconda però è ancora più sottile, cioè il fatto che Google sia il terzo classificato, diciamo, è anche piuttosto distante nel mercato del market share del cloud. Essendo in una posizione quindi di svantaggio rispetto agli altri due campioni, quindi AWS e Azure, ecco che dal suo punto di vista è meglio che gli utenti abbiano meno impedimenti a spostarsi da un cloud all'alto, perché se l'obiettivo di Google è quello di rubare clienti ai competitor, ecco che far sì che in tutto il mercato non ci siano più tanti impedimenti e tanti costi a spostare i propri dati va a vantaggio soprattutto di chi spera in una migrazione. E adesso parliamo di tagli di altro genere, perché purtroppo dobbiamo parlare di nuovo di layoff, come vi dicevo, e torniamo a parlare di Google perché, prendo un articolo di The Verge, Google ha confermato il licenziamento di alcune centinaia di dipendenti per reparto in vari reparti, dai team di engineering ai team di Google Assistant e si stima che siano circa 1000 dipendenti totali, ecco colpiti da questi licenziamenti. Potrebbero esserci tra l'altro degli altri perché Google potrebbe cercare di distribuire questa brutta notizia, ecco, un po' nel tempo. Infatti non è nuova, no? A queste ondate di layoff in un periodo di tagli, tra l'altro, generalizzati nel panorama tech. Prendo a compendio anche un articolo su Neowin che ci parla meglio di quali sono le divisioni, diciamo, colpite da questi tagli. La divisione Devices and Services in particolare subirà dei cambiamenti significativi perché ci sarà la partenza dei co-founder di Fitbit che sono James Park e Eric Friedman oltre ad altre centinaia di licenziamenti e i team di engineering in hardware soprattutto in Pixel, Nest e Fitbit che erano finora, diciamo, team separati ora saranno uniti, diventeranno un unico gruppo di hardware engineering. Peraltro la maggior parte di questi licenziamenti riguarderà i settori di AR quindi di realtà aumentata anche se Google dice che l'azienda rimane committata, ecco, nell'iniziativa di realtà aumentata e infatti continuerà una partnership con Samsung per, ecco, i nuovi headset, i nuovi visori AR di Samsung che avranno software Google con un lancio previsto per quest'anno. Infilo in questa parte della news anche un articolo che trovo su SFGate quindi sarebbe, diciamo, cronaca da San Francisco che parla appunto dei off di Google e ci infila anche la chiusura di una child care facility quindi una struttura dedicata all'assistenza ai minori che era appunto sostenuta da Google che ora invece Google decide di chiudere e di, ecco, lasciare a casa per fare un taglio ai propri 73 impiegati, 73 dipendenti. Poi l'articolo inserisce questa chiusura nel contesto dei tagli a Google quindi dei tagli a più di 1000 dipendenti che avverranno in vari reparti e chiude con una citazione all'Alphabet Workers Union perché sapete che questa unione sindacale nata qualche anno fa proprio in Alphabet per rappresentare tutti i dipendenti di Google che ha scritto un tweet parlando di layoff non necessari. Ma i layoff non sono finiti ne parlavamo proprio la puntata scorsa vi confermo la notizia delle layoff in Twitch quindi circa 500 dipendenti saranno tagliati si tratta di un terzo del personale di Twitch e insomma c'è una dichiarazione del CEO di Twitch che è Dan Clancy dichiarazione che trovo su The Register che parla di un ridimensionamento che è necessario perché l'azienda era cresciuta più di quanto in realtà era necessario quindi insomma la giustificazione è un po' sempre quella, no? durante la pandemia l'azienda era cresciuta troppo quindi adesso ci siamo trovati costretti a dover tagliare le posizioni che avevamo aperto non giustificatamente. Peraltro si ricorda nell'articolo che Twitch che era stata acquisita da Amazon nel 2014 era entrata anch'essa nel layoff record dell'anno scorso tagliando circa 400 posizioni mentre Amazon e il suo parent company avevano tagliate più di 27.000 tra tutte le sue divisioni ma nello stesso articolo trovo anche dei tagli in altre compagnie tech una è Duolingo Duolingo ha confermato il licenziamento di circa il 10% dei suoi lavoratori quindi questo è un altro grosso round di layoff ma il colpevole qui è GPT-4 sì, è l'intelligenza artificiale perché molti dei servizi di Duolingo stanno virando verso la IA appunto e il CEO Luis Von Hahn ha appunto confermato che Duolingo incrementerà l'uso di generative AI per i propri servizi ma ha anche detto che non sta scambiando gli esperti umani con AI sta semplicemente facendo uno switch dei suoi servizi insomma questa è un po' la dichiarazione e la giustificazione ve ne do un'altra perché trovo sempre nel senso articolo una finestrella che notifica di altri layoff questa volta in Citrix infatti Cloud Software Group che è la parent company di Citrix notifica del taglio di circa il 12% della forza lavoro totale globale di Cloud Software Group e quindi questi tagli riguarderanno anche Citrix quindi ci sono circa mille persone in Citrix che perderanno il proprio lavoro anche se poi il CEO ha detto che si cercherà di ricollocarli in altre aziende insomma fornitori, partner di Citrix e ho finito? no non ho finito perché ce n'è un'altra c'è quella in Discord anche Discord sta facendo layoff licenziamenti del 17% del suo personale quindi 170 persone circa il suo CEO Jason Citron ha riconosciuto anche lui che l'azienda ha insomma ha assunto troppe persone in questi ultimi anni si è gonfiata troppo insomma le solite dichiarazioni vi ricordo comunque che Discord non è ancora un'azienda redditizia però ha l'obiettivo di diventarlo quest'anno questi sono gli intenti della compagnia e visto che siamo in questo bel tema di frizzantezza e allegria vi infilo anche che in Disney stanno facendo dei layoff in particolare in Pixar ora non è esattamente tech company non è esattamente mercato IT però insomma Pixar essendo grafica digitale comunque rientra tangenzialmente ecco con quello che facciamo noi e anche in Pixar ci saranno dei layoff non sono ancora stati confermati ufficialmente non sappiamo ancora bene il numero ma TechCrunch ecco ha scoperto che i piani saranno quelli di portare un taglio di circa il 20% della forza lavoro in Pixar che tra l'altro ridurrà anche il numero dei propri progetti quindi insomma l'ambiente è un po' questo in chiusura un'ultima notizia molto veloce che ho visto stamattina proprio una breaking news parlo di Bending Spoons che quando fa qualcosa insomma la cito perché ormai è una delle più grosse realtà italiane che si muove in campo internazionale nel campo globale nel mercato IT bene Bending Spoons ha appena annunciato l'acquisizione di Meetup Meetup è quella piattaforma insomma che conoscerete in molti per appunto organizzare e partecipare a dei Meetup Meetup locali quindi scriversi prendere i biglietti eccetera 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 benissimo Bending Spoons ha acquisito questa piattaforma e c'è sul blog di Meetup appunto sul blog di Meetup.com c'è l'annuncio di Luca Ferrari che è il CEO di Bending Spoons che va appunto a parlare alla community di Meetup di questa notizia di questa acquisizione naturalmente parla del riconoscimento globale del marchio Bending Spoons conosciuto anche ultimamente per le acquisizioni di Evernote e di altre realtà io starei un po' tento a parlare di Evernote in ottica di belle mosse Bending Spoons perché insomma i cambi che hanno fatto ai piani di Evernote non sono stati molto graditi dai suoi utenti poi Bending Spoons si è stata anch'essa coinvolta in giri di tagli lay off licenziamenti chiusura di alcune unit insomma un po' un ultimo anno movimentato comunque c'è questa c'è questo annuncio questa acquisizione e si parla poi di piani per il futuro una volta completata ecco l'acquisizione Bending Spoons andrà a almeno nei piani supportare il futuro di Meetup con tutta la sua expertise nel settore digitale quindi intanto vi do questa che è abbastanza un flash ma seguirò volentieri gli avanzamenti perché comunque è un'artizia che potrebbe avere un certo impatto nell'assetto del mercato allora super velocemente due link che vi consiglio entrambi sono su WebAssembly il primo è un articolo che trovo sul blog che si chiama WingoLog poi vi lascio i link nella descrizione dell'episodio sia su YouTube sia su Spotify comunque questo si chiama Missing the Point of WebAssembly e l'ho trovato molto ficcante perché è una descrizione di che cos'è WebAssembly però non convenzionale cioè non parte dalla solita descrizione di WebAssembly come una virtual machine tipo la virtual machine di Java e neanche da un linguaggio tipo Assembly no fa delle altre metafone insomma parla di linguaggio parla di modelli di astrazione e la descrizione di WebAssembly da questo punto di vista l'ho trovata piuttosto carina quindi è un bel articolo sia che conosciate WebAssembly sia che non lo conosciate vogliate un po' un'introduzione e infine vi consiglio di leggervi anche questo post su The New Stack che si intitola What is a WebAssembly component the ultimate guide che parla appunto di component WebAssembly che è un nuovo diciamo modello che si applicherà a WebAssembly al modo in cui comunicano con Wasi insomma non vi sto a dire troppo però se vi interessa approfondire insomma vi consiglio di leggere questo articolo che è piuttosto introduttivo ma vi dà alcuni concetti base poi vi linka anche a approfondimenti ulteriori per andare a vedere che cos'è questo discorso che si sta facendo attorno al modello WebAssembly component quindi vi ripeto entrambi Missing the point of WebAssembly su WingoLog e What is a WebAssembly component the ultimate guide su The New Stack e ho finito grazie per avermi seguito anche oggi ora andiamo verso il weekend quindi verso una rilassante frizzantezza noi ci vediamo la prossima settimana grazie ancora a tutti ciao grazie a tutti